Una palette di acquerelli su un foglio di carta? Ti insegno come fare! Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Oggi un video bellissimo e coloratissimo Vi insegnerò a creare una palette di acquerelli su carta Una palette portatile e facilissima da creare E allora spostiamoci di là e la palette su carta vediamo come si fa Ed ecco l'occorrente per creare la nostra palette di acquerelli da delle matite acquerellabili Ci occorreranno un paio di forbici, una matita, un righello, un washi tape o qualunque tipo di scotch Delle matite acquerellabili, un foglio di carta per acquerelli Un foglio di acetato e basta, possiamo cominciare Come prima cosa da un album per acquerelli ricavo un foglio di carta della dimensione che voglio Quella che mi viene più comoda magari da inserire all'interno della mia agenda La mia è 18 x 26 Fatto questo divido a metà così in modo da avere questa sorta di carpettina Inserisco all'interno della mia carpetta facendo combaciare il margine interno e un margine laterale Il mio acetato così e rifilo i bordi in eccesso Quello che avremo a questo punto sarà la carpettina e all'interno un foglietto delle dimensioni esatte della carpettina stessa A questo punto prendo il washi tape e appiccico così l'acetato all'interno della carpettina Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte del washi tape A questo punto quello che avremo sarà questo Una carpettina con due settori e un acetato in mezzo Bene, siamo pronti per creare la nostra palettina E cominciamo a preparare la nostra palette Facendo dei rettangolini assolutamente a mano libera Ben saturi di colore Scegliete quindi delle matite acquarellabili grasse Perché più grasse saranno più colore riusciranno a rilasciare sul foglio Grazie a tutti Grazie a tutti Ed eccola qua la nostra palettina bella e pronta per essere usata Adesso però dobbiamo provarla perché le chiacchiere stanno a zero Vediamo se funziona Bagniamo il nostro pennello E prendiamo un colore a caso Prendo un po' di rosso E vediamo Wow ma allora funziona Guardate un po' Fantastico Spandibile ed utilizzabile durante le nostre vacanze Prendo un po' di verde Un po' di turchese Ora ditemi se non è un modo geniale per portare in giro i nostri acquarelli Vedete si possono usare bagnato su asciutto e diluirli Vediamo se funzionano anche bagnato su bagnato Prendiamo un goccio e voilà E si funzionano proprio E allora quest'estate niente pesi niente ingombri Senza il peso della creatività ma con soltanto il necessario Vi lascio le foto e per qualche suggerimento in più ci vediamo subito dopo Visto che è facile fare una bellissima palette piena di acquarelli da utilizzare nei posti più impensati Per occupare poco poco spazio in valigia e per avere sempre una palette completa di acquarelli All'interno di una pochette o di una borsetta È un modo semplicissimo per avere i nostri colori sempre con noi E dei colori vividi, brillanti e subito pronti all'uso Vi do anche un'altra idea Potete anche fare delle mini palette su ogni foglio di album In modo da staccare un foglio d'album su cui dipingere E da avere già tutti i colori che vi possono servire a disposizione sul margine del foglio stesso Che dovete dipingere Sbizzarrite a creare le palette più strane e scambiate i colori con i vostri amici In modo che su un foglio possiate avere una moltitudine di colori magari non appartenenti soltanto alle vostre matite Potete creare queste palette non soltanto con le matite acquarellabili Ma anche con i colori a cera acquarellabili Quindi avere una piccola cartellina sempre a portata di mano per dipingere dove si vuole Se questo video ti è piaciuto e so che ti è piaciuto Regalami un pollice in su e magari condividilo sulla tua pagina Facebook Vienimi a trovare su Instagram e su tutti i miei social Cerca sempre Arte per te Il pennello bianco su fondo rosso A me non rimane che salutarti e rimandarti al prossimo video Sempre qui e sempre con tanto colore Da Ombretta e da Arte per te è tutto Alla prossima volta Ciao Ciao